Romano Color e Style, il futuro è uno spazio vuoto da riempire e colorare con la tua immaginazione. La città di Vietri sul Mare premia Ulrike Weiss, designer e maker tedesca, vincitrice del premio Residenza d'Artista del Viaggio attraverso la Ceramica 2018-2019. A conferire all'artista il riconoscimento sono stati il sindaco Franco Benincasa e l'assessore al turismo alla cultura e alla ceramica Giovanni De Simone, che hanno donato all'artista una ceramica simbolo dell'arte vietrese, il famoso asinello con il carretto. La Weiss inoltre, grazie al premio Residenza d'Artista, porterà avanti insieme con altri artisti ceramisti e in collaborazione con l'architetto Giancarlo Solimene, il progetto Ai Lava You, lavorando presso la fabbrica ceramica artistica Solimene per la realizzazione di una grande lapide in lava vesuviana, a termine delle attività artistico-performative del Potlac Vietrese. È un'opera molto strana ed è un'esperienza artistica di arte pubblica, perché sarà un'applicazione molto grossa di ceramiche su un muro vicino all'ingresso del nuovo ascensore che è stato montato a vietri. Qual è la caratteristica di questa opera rivoluzionaria? Fu molto teorizzata dalle arte dell'avanguardia del Novecento, poi nessuno l'ha mai fatta. Il discorso è questo, sarà un mosaico aspezzato, chiunque può dire, ne abbiamo visti tanti, sì, no, ma è il materiale iniziale che cambia completamente, perché noi abbiamo chiesto a molti ceramisti, a quasi tutti, prima di tutto aperto a tutti, non più gerarchie, più bravi, invito solo quelli, tutti, tutti quelli che vogliono portare. Noi spaccheremo le ceramiche donate, ce le romperemo e con questo si creerà il mosaico. Questa è una cerimonia simbolica che esisteva in società primitive, studiata molto dai più grandi antropologi del Novecento. Poi dagli avanguardisti del Novecento, gli situazionisti francesi, molti altri, che sostenevano che un'opera del genere finalmente distruggeva l'individualità, la monetizzazione, per ricreare un'opera collettiva, in favore di tutta la collettività. Poi non l'hanno mai fatto perché poi quando il singolo artista, uno veniva e diceva dammi la tua opera e te la spacco, non erano contenti. Qui ci siamo riusciti per la prima volta al mondo. Quindi partiremo il 17 gennaio con i primi elementi di installazione e le prime pietre saranno però dei pezzi di ceramisti illustri morti. Perché così? Se no chiunque dice perché è la prima pietra quello e non io. Allora celebriamo dei grandi ceramisti scomparsi. La prima pietra che sarà posata è una rigiola di Ugo Marano. A prendere parte alla celebrazione del ventennale del premio internazionale che viaggia attraverso la ceramica, oltre a vietri sul mare, tutta la costiera amalfitana e la regione Campania. Il sindaco di Ravello ha comunicato la vigilia dell'anno nuovo a Manuel Cargaleiro, che vinse il primo premio, vent'anni fa, il premio internazionale, il 1999, che la città di Ravello, dove ora sovente risiede Cargaleiro, dedicherà una mostra importantissima alla storia dei vent'anni del premio con le opere dei vincitori, intorno a un omaggio speciale fatto a Cargaleiro. Il sindaco di Ravello, l'avvocato De Martino, c'è l'accordo anche della regione Piemonte, della presidenza della regione Piemonte, quindi veramente questo ventennale appare molto ricco e in qualche modo storico.